Andiamo avanti Ma si dai, vediamoci questo video La scomparsa di Giuseppe Simone Che fine ha fatto il nostro caro amico? Dove è finito? Anche se in parte so, mi pare l'anno scorso O due anni fa, ha partecipato in una live di Twitch E ha fatto il delirio, quindi Meglio dimenticarsi quei momenti Giuseppe Simone è completamente scomparso Non del tutto Su Youtube non ci sono più sue tracce Ogni suo canale è stato cancellato Quello che rimane è soltanto il suo sito web Oggi quindi cerchiamo un attimo di capire che cosa è successo Cerchiamo di analizzare un po' di roba che è rimasta E vediamo se anche questa volta mi prendo delle minacce pesanti Come la volta scorsa Nel caso risuccedesse, va bene Ora capisco tutto Le persone che sono scomparse nel web Non vogliono che tu scopri la loro storia Se hanno eliminato tutto ci sarà un motivo E questo l'ho capito anche a mie spese Però questo è il video di Gematria Quindi io ho fatto la reaction a lui Giuseppe Simone Non mi farei nulla Mi raccomando Non dirò nulla La colpa è sua Io sto vedendo lui Io adoro i suoi contenuti No, che in realtà ho visto pochissimi dei suoi contenuti Ma va bene Ma niente Giuseppe Simone Amatissimo dei cultori del trash Ha ottenuto grande successo su YouTube qualche anno fa Partecipando a qualche comparsa Al grande Di pre Cos'è storia Questo suo tormentone fece il giro dei social Ma come accade a molti personaggi virali L'ondata di popolarità si è presto esaurita Ed è arrivata la più cupa disperazione Oggi infatti Oltre a cercare di capire dove è finito Giuseppe Simone Ed effettivamente cosa può essere successo Voglio semplicemente farvi vedere Quello che tante persone purtroppo ad oggi ancora non capiscono Di trash A meno che non sia intenzionale E anche più difficile Non ci puoi vivere a lungo Giusto Sono sempre Come possiamo dirle Meteore Chiamiamole così Per farlo Visto che praticamente sarà una campagna di Left 4 Dead Questo video Ho scelto di mettermi questo capolavoro addosso La maglia di Lady B Dei Beatles In versione zombie Potete trovarla su Pampling Ma bacca cara Usate il mio link di Pampling Zeopera Grazie al mio codice No Non esiste il tuo codice Non esiste Esiste il mio Quasi impossibile vivere Almeno in Italia Questo a causa del fatto che essere un tormentone Essere un fenomeno da baraccone su internet Non solo ti fa esaurire subito quelli che sono i tuoi colpi in canna Sì Ma nei casi peggiori E questo qui è uno dei casi peggiori Ti costringi a un'esistenza Che solo sentirla raccontare fa piangere il cuore Giuseppe Simone Che oggi ha poco meno di 50 anni Vive in una condizione Non sembrava L'ultima volta che l'ho visto in una live Non sembrava avesse 50 anni Di estrema difficoltà finanziaria A sua detta Il suo periodo nero dura da più di 5 anni Da quando non ha più un lavoro fisso per mantenersi Minchia Ha anche rivelato di riuscire a campare purtroppo Soltanto grazie alla pensione del padre E un piccolo aiuto della sindaca del paese in cui vive Abito con mio padre che è anziano Con la sua pensione mantiene se stesso e me Si occupa delle bollette Della spesa E di tutto ciò che concerne la casa Io lo aiuto Lo assisto Io spero di non fare sta fine E ho chiesto al sindaco del mio paese Neviano in provincia di Lecce Di aiutarmi Si è adoperata a farmi fare un paio di tirocini Da 4 ore al giorno Da lunedì al venerdì Per un totale di 244 euro mensili Mamma mia Come faccio io a campare con questi soldi? È impossibile Queste interviste sono state fatte ormai 5 anni fa E Giuseppe Simone ha anche dichiarato di essere pronto Seduta a stanza Ecco perché adesso si fa pagare pure Qualsiasi intervista Qualsiasi cosa che tu gli chiedi E anche a Burdi Profumato Ho 46 anni e sono consapevole che più vado avanti con l'età Più difficile sarà Io ogni sera mi metto al computer a mandare curriculum ovunque Ma niente Odio la mia terra Odio il Salento Il sud fa cacare Ti capisco Da questo punto di vista Ringrazierò sempre il Veneto che mi ha dato da mangiare e da vivere Dal 2004 al 2008 Un periodo che ricordo molto volentieri Ho lavorato a Verona e per 4 anni ho vissuto lì Ah lo sapevo In quell'intervista ha anche dichiarato il fatto che le donne da lui Scappano a gambe levate non appena vedono che lui ha delle intenzioni un po' più serie Posso essere brutalmente sincero ragazzi? Se quello che trovano le persone quando cercano in giro il tuo nome è questo Martina Smith Io ti faccio questo sortileggio Ambra babacicicoco Questo Chi lo do? Di prefattissimo Che cosa sta succedendo? Che lui mi ha detto che sono un terrorista della vagina Non so quanto ci si possa lamentare Però a mio parere qui la colpa non è neanche completamente sua Semplicemente perché io ci vedo qui solo tantissima frustrazione Anche quando ho attaccato a me in maniera molto pesante Io non ci ho visto cattiveria Ah non me lo ricordavo Lui per lì si Mi sono sfogato come no Però col senno di poi io non ci vedo cattiveria Ci vedo soltanto tanta frustrazione A causa del fatto che qualcuno ai tempi lo ha sfruttato Lo ha spremuto come un limone Perché alla gente faceva ridere Vedere Giuseppe Simone Che si metteva in ridicolo E che diceva le sue frasi tormentone Nelle discoteche E questo è il risultato Io non ho una vita sociale Vivo una vita da quasi remita E così da quando avevo 14 anni La solitudine è la mia fidanzata Anche perché io non vado a letto con una donna Da tipo 12-13 anni Ho paura di fare questa fine Porca miseria Devo cercare qualche modo di riprendermi Le donne mi dicono Giuseppe sei magnetico Sei meraviglioso Sei illuminato Però nel momento in cui bisogna concretizzare Scappano Mangiano il mio piatto forte Le frittelle di zucchine E poi al momento del dopocena Se la danno a gambe levante Porca madonna La passione per le donne ce l'ho sempre avuta Che stronze però Questa è una mezza intervista Che si può tranquillamente trovare Su Webbo E ormai come vi ho detto È datata 5 anni fa Webbo top sito Sono venuto a sapere Che il canale O perlomeno Tutta la rosa Di canali Di Giuseppe Simone È stata cancellata Cioè io Mi sembra l'anno scorso Vedi qualcosa Dei suoi canali Ne aveva tipo 5-6 canali Peggio di prestesso E in questi 5-6 canali Pubblicava di tutte Di più Una volta pubblico anche Il numero di Grimbaud Mi ricordo E lì successo il delirio Non c'è più E quindi qui O di Grimbaud di qualcun altro Di più alla vicenda E soprattutto è qui Che ho voluto cercare Di capire di più Su quello che potrebbe essere successo Se andate sul suo canale In questo momento Vi esce questo Può vedere che per quel motivo È stato bannato È stato rimosso Perché violava le nostre norme Perché mi pare una cosa del genere Ho cercato tutti gli altri 5 canali Ma Non c'è più niente L'unica cosa che rimane Di Giuseppe Simone È il suo sito web Benvenuti nel sito web Di Giuseppe Simone Bellissimo Qui dentro sono raccolte In maniera anche Molto maniacale Un sacco di informazioni Che riguardano Non soltanto la sua vita Dal punto di vista pubblico Ma anche degli aneddoti E la sua versione Di tutta la sua storia La mia avventura multimediale Ebbe inizio nell'aprile del 2008 Quando rimasi senza lavoro a Verona Ignaro nell'uso delle apparecchiature informatiche Decisi quindi di fare un salto di qualità Per stare al passo con i tempi Nell'intento di rientrare Nel mercato del lavoro Infatti comprai un notebook La stampante E vari accessori in libri Per studiare l'informatica Ad autodidatta E ringraziando gli internet point Per le mie prime nozioni pratiche Inevitabilmente andai incontro A quello che cambiò La mia immagine sociale I social network Penso che non ci sia neanche Bisogno di spiegare il perché Ma tranquilli che ce lo spiega lui La mia unica preoccupazione Era soltanto di trovare un lavoro Nella città che ho tanto amato Che mi ha ospitato E che mi ha dato da mangiare E da vivere degnitosamente Verona Non informato dei pericoli In cui stavo per imbattermi Ma che adesso potrei dare lezioni Su come adoperare e proteggersi Da questo strumento Di ineguagliabile cattiveria 3.0 Agli inesperti Come dicevo Decisi di fare una sorta di video curriculum Per essere reinserito Che poi non è più esistente E questo video curriculum In realtà È ancora disponibile Ah è ancora Ciao Giuseppe Di dove sei? Sono di Neviano Abito a Neviano E niente E di che cosa ti occupi? E niente Cosa mi occupo? Purtroppo sono disoccupato Pichena E che cosa hai fatto ultimamente? Ultimamente guarda Tra il mese di febbraio E il mese di marzo Per un mese intero Ho lavorato Come ha detto L'installazione di pannelli solari E precedentemente a questa esperienza Di che cosa ti sei occupato? Guarda Michela Cosa dirti? Non ti so Questo mio primo video Ebbe un riscontro mediatrico notevole Ma opposto alle mie aspettative E con i video successivi Fui a tal punto contattato Per cortometraggio E serate in discoteche Per tutta Italia Dal 2013 Non ha senso sta cosa però Questo in realtà Inizia un po' a spiegare È un po' strano Perché Simone si è scomparso Io sono convinto Che non sia stupido E sono convinto anche Che tutta questa gente Che ha cercato di sfruttarlo E purtroppo in qualche modo C'è riuscita Nel corso del tempo Piacere Non gli ha fatto Infatti scrive Questa mia ondata di successo Attirò bestie È il termine più consono E privi di basi culturali ed umanistiche Questo non ho dubbi C'è gente che è ignorantissima Però vuole sentirsi Leggermente sopraelevato a te Perché tu fai Trash Tra virgolette Te pigliano per il culo Fino alla fine dei tuoi giorni E ne so qualcosa Ne presine anche peggio Senza precedenti Di giorno e di notte In continuazione Come un tir Senza sosta A seguito Gli amanti del trash Mamma mia Mi presero in simpatia Mi catalogarono meglio Mi etichettarono come personaggio del trash Ovate del Salento Ecco un assaggino In 12 anni Andiamo bene Qui sono anche riuscito a trovare Un cortometraggio Del quale non avevo mai Neanche saputo l'esistenza Che possiamo anche definire Non so Neorealista Che si considerano buoni Ma che c***o O con le persone umili e imperfette Tutto bello in ordine Istante dopo istante Siamo il motore Che carica l'orologio del tempo E fornisce il carburante dell'universo E dunque Beati i piantacasini Beati i piantacasini Perché chi meglio di loro È in sintonia cosmica Con questo universo Da qui in poi Ci sono una serie di video Che onore assolutamente Non fanno a questo Giuseppe Timone Ringrazio tutti quelli Che credono nel trash Come stile di vita Etica sociale Ma soprattutto Come codice comportamentale E spero che i miei insegnamenti Siano serviti a qualcosa Per adesso è tutto Giuseppe Timone Nota informativa La mia collaborazione con Andrea Di Pre È terminata da tempo E non posseggo nessun numero telefonico Questa a mio parere È la parte meno inquietante Del sito di Giuseppe Timone Che però Un attimino Getta delle basi Su qualcosa Che nessuno Si è mai preso la briga Di raccontare Ovvero Come è possibile Che questo qui Sia finito a fare Questa roba su internet Ve lo dico io Come è possibile Semplicemente La gente Ha visto Che faceva ridere Per i motivi sbagliati E ha cominciato A fargli credere Di essere una star Che deficienti Madonna Li odio sti qua Il problema è che Questa roba Cioè invece di idolatrale Per le cose giuste Prendiamolo per il culo Rendiamolo famoso Soltanto perché È un personaggio Come possiamo definire Un fenomeno A baraccone Sembra che stiamo tornando Ai circhi di una volta Porca misera Dove l'uomo In gabbia E la gente Diciamo Più culturata Tra virgolette Prende per il culo Quella persona ingabbiata Si può dire Si ingabbia Diciamo Cioè mi sembra La stessa cosa Più o meno Un riscontro A livello di soldi E come abbiamo visto Anche due anni fa Giuseppe Simone Contatta attivamente Le persone Per chiedergli soldi Non appena qualcuno Gli fa un complimento Prende E gli dice Guarda Per ricompensarmi A coquapapal E tutto quanto E giustamente La gente gli risponde Scusami Ma stai male Ma qui c'è anche la sezione Canzoni Le canzoni Porca madonna I veri maestri artisti Che hanno dedicato il loro Ma Pierlo Ma ha fatto Ma ci ha messo pure Le puppe all'interno Le puppe Purtro tempo per video memorabili Christian Heiss Ah vabbè Christian Heiss è storico Ma lo ricordo pure La canzone All'aria però Non mi sorprendo Pierlu Pups God's The Guys Nemesis Sapone Intimo Grotti MC Walter Mariano Mushroom Headed Ragazzi miei Questi sono nomi che non sentivo Da quando andavo alle medie Mi sembra di essere Verissimo Spazio temporale Comunque La YouTube di una volta Arriviamo alla sezione Video recenti In questa pagina del mio sito Potrei consultare gli ultimi 14 video più recenti Per una lista completa Clicca qui Clicchiamo Ma YouTube Rifiuta la connessione Esce proprio un avviso Con un simbolo Che tra l'altro Penso che arrivi dritto dritto Dal 2003 Procedendo Si trova un'altra sezione Del sito Nel quale Ci sono tutti i contatti Necessari Per poter dare soldi A Giuseppe Simone Un tuo contributo volontario Anche di 5-10 euro Mi fa capire Che hai apprezzato La mia fatica Incominciata ad aprile Del 2008 Infinite grazie Link di PayPal Poste Pay Codice fiscale E IBA Ma che serve il codice fiscale? Il piacere Tramite un link Di reindirizzamento Per il sito di Amazon Di farmi un regalo Se lo vorrai Per ringraziarmi Per tutto il tempo Di relax Buon umore Risate a crepapelle E anche riflessioni Filosofiche di vita Infinitamente grazie Col cuore Link lista Amazon Mese di giugno Quindi è pura giornata Mi dispiace Dover deludere Giuseppe Timone Però L'unica persona online In questo momento Sul sito Sono io Addirittura Qui c'è L'indirizzo di residenza Di Giuseppe Simone Che per ovvi motivi Censurerò Sempre per tornare a noi E per cercare un attimo Di capire Che tutto questo Mettere in giro Le proprie informazioni Non è mai un bene C'è un articolo di giornale Che recita questo Ti metto fuoco Lo youtuber trash Giuseppe Simone Minacciato di m***e Dopo commento hard Sui social Ma che cazzo? Giuseppe Simone Lo youtuber trash Ha detto Con il mio affare Potremo fare tanti cuccioli Questa esternazione Sotto il commento Di una donna Ha scatenato la reazione Del marito Che ha cercato Di farsi giustizia da sé Il 22 marzo del 2024 Si è presentato in casa Dallo youtuber Infastito da quel commento Insieme ad altri due soggetti Perché Giuseppe Simone Avrebbe dovuto scrivere Un messaggio di scusa Alla moglie Questo succede A rendere famoso qualcuno Su questi presupposti Che nel caso Giuseppe Simone Ripeterà Ad oltranza In maniera anche Molto macchinosa Tutte quelle cose Che lo hanno fatto Apprezzare Verissimo Qui per esempio C'è il suo gruppo Social Porca madonna C'aveva 5 canali Che cazzo se fa Se ne fa di sti 5 canali Ma tutti i suoi canali youtube Sono stati tutti buttati giù Non lo metto in dubbio Ho fatto abbastanza impressione E' stata la sezione Non mi ricordo il nome esattamente Ma era una sorta di Dicono di me Giuseppe Simone Si è veramente Messo a prendere Ogni commento Semplicemente Menzione Che riusciva a trovare In giro per internet Tutto fa brodo Basta che l'argomento principale Sia lui Lo trattano come se fosse Il pagliaccio di turno Intanto però Ci godono A fare il suo canzone Questo è vero comunque Visto che voi guadagnate Senza fare un c***o Potete almeno Dargli una mano Al posto di deriderlo Vabbè Probabilmente Primo o dopo Farete la sua stessa fine Eh Chissà se Qualcuno sta arrivando A quella fine di pre Non è che si ha messo Tanto bene Per me Giuseppe Simone Ha creato un contenuto Fuori dalle righe Mi fa ancora morire Dalle risate A distanza di dieci anni E aggiungerei io Indaga un pochino Sul perché Perché non è che sia Così normale Dovreste trattarlo Come un dio Voi non avete strappato Manco un decimo Delle risate Che ci ha fatto fare lui Migliore intrattenitore Di youtube Italia Grazie Giuseppe Grazie di tutto Ragazzi Indubbiamente il mondo Del trash anni fa Ci ha fatto fare tante risate Per carità Il problema è che Arrivati probabilmente Immagino dopo i 20 anni 25 anni Non lo so Comunque sia Il canale di Giuseppe Simone Al momento Non è disponibile Perché è stato buttato giù Non potendo guadagnare Da youtube Quindi Giuseppe Simone Ha deciso di fare una cosa Un qualcosa che urla Disperazione Da ogni poro Per me La soddisfazione del cliente Viene al primo posto Ecco cosa dicono i miei clienti Quando mi ordinano un video Per omaggiare una ragazza O in occasione di compleanni Feste private Laurea Che cambiava lavoro Giuseppe è stato molto disponibile E professionale Rispondendo prontamente Alle mie domande per email E informandosi Per personalizzare il video Il risultato è stato esplosivo Ho fatto vedere il video Al festeggiato E agli altri colleghi e colleghe E avevamo le lacrime Agli occhi Per le risate Affidabile e puntuale Lo consiglio Per rendere indimenticabile Non so se è una presa Per il culo Grazie Giuseppe Non penso neanche Che sia necessario Che io giri Il coltello nella piaga Ricordando che queste persone Con tutta probabilità Non stanno ridendo Con Giuseppe Simone Però Vabbè Lo immagino tantissimo Anche io Oddio Che cazzo Colui che poi ha passato Il canale O i social Mi pare Non mi ricordo Se era la figlia O la persona con cui stava Mi ricordo che passo Diciamo Il testimone A una ragazza Quello che mangiava Le robe crude In poche parole La carne cruda Qua c'è un multiverso ragazzi Chi di voi è un po' più vecchietto Come me sulla piattaforma Sicuramente si ricorda questo video Questo me l'ha fatto conoscere Mio cugino Sto tizio E questo qui è il Maggio C'è addirittura la mele Tutto quanto Posso certifire È il manager Incredibile Sono venuto a conoscenza Di questa pagina Perché mi è stata consigliata Giuseppe Pugliese Come il grande maestro a Romolo Ah Pugliese Contattarlo è stato facile Subito ci siamo accordati Sul modus operandi E la realizzazione È stata puntuale E semplice Consiglio vivamente A chiunque abbia una simpatia Verso il nostro Giuseppe Di contattarlo Per la realizzazione Di video belli Divertente Trash quanto bastano Un saluto a Giuseppe Alla doc È un ambiente un po' così È stato strano Vedere questo crossover C'è un'altra sezione Però Che non mi aspettavo Di trovare Laurearsi con Giuseppe Simone Ma veramente Sono riuscito Dopo anni di insegnamento A far laureare Un ragazzo Della città di Foggia Il suo nome È nome e cognome In lingua e letteratura italiana All'indirizzo filologico E mi ha intervistato Tramite Skype In data sabato 10 giugno 2023 Facendomi domande Sull'influenza Dei social sui giovani Quanto un personaggio pubblico Può determinare La vita privata Di un suo fan Se il trash Ha rivoluzionato Mode e tendenze A cose dovute Alla scarsa collaborazione Dei personaggi Che ne fanno parte E altro a seguire Io comunico al dottore Che bastava contattare me Però vabbè Vabbè Questa qui ragazzi È la vera foto Di una tesi di laurea Nella quale esiste Giuseppe Simone Io non so più Caro Giuseppe Non me ne volere Ma la foto con la corona Dall'oro Non vorrei che si vedesse Sul web Quello è un ricordo Mio personale E ci terrei Che rimanesse tale Io non ho neanche Un profilo Facebook O Instagram Tanto per farti capire La mia riservatezza Per la votazione del 110 Non ho un documento ufficiale Che lo attesti Ma devo aspettare La pergamea di laurea Che sarà pronta Tra qualche mese Il resto Te lo incollo uguale Dalla mail precedente Come avevi chiesto Dopodiché Sul sito c'è un'enorme Galleria Catalogata per posto Nella quale Giuseppe Simone Mette tutte le foto Con la gente che lo ferma Questo è tutto quello Che sono riuscito a trovare Per cercare un attimino Di capire Praticamente Lui si scaricava Qualsiasi cosa Anche Senza consenso Il perché Vabbè c'è la sua faccia Per forza Era consenso Io ho soltanto questo Da dire Anche perché Purtroppo Per quanto vorrei Parlarne all'infinito Devo comunque Mantenere un minimo Di decenza Perché un po' di tempo fa Mi ha chiesto E non parlare mai più di lui Però insomma Più che ha chiesto Mi ha minacciato E si è augurato Che io morissi Quindi voglio farla breve Io sono convinto Che Giuseppe Simone Come detto poco fa Abbia semplicemente Continuato quello Per cui la gente L'ha sempre chiamato Sì E poi io esorto Le ragazze A darla Ed esercitarla Come vogliono loro Io ho portato In una semplice busta Da spesa Del mercatone Allora Due confezioni Dire Giseno Con slip Mi servono Poi sono Sul profilo Personale Giuseppe Simone Tra parentesi Geppetto E poi sono Mastro Geppetto La vera fine Tra parentesi Geppetto È stata Continuare A fare tutto ciò Che in un primo momento Ho fatto ridere Poi la gente Ha smesso di parlarne Però sì Quello che è rimasto È un uomo Che chiede soldi Ai suoi vecchi fan Per una sorta di devozione Che la gente Gli dovrebbe Fai video per i compleanni In cui la gente Mamma mia che tristezza E gli arriva la gente a casa Perché va a commentare Le foto delle ragazze Su Instagram Questo è quanto Penso che questa storia Possa insegnare molto Anche i nuovi fenomeni Trash Che mano a mano Spuntano Perché è un ciclo Ragazzi Come vi dicevo prima Del trash Non si può vivere Però diciamo che adesso Non è più quel trash Di una volta Adesso Si vede che alcuni Lo fanno apposta Letteralmente A meno che tu veramente Non abbia alle spalle Una situazione che ti copra Perché semplicemente Nel momento in cui Vieni sfruttato In questa maniera Questo succede Giuseppe Simone È completamente scomparso Da YouTube E chissà Se un giorno tornerà Per adesso Questo è quello che sappiamo Io vi ringrazio D'essere Eh non hai detto però Non lo so se l'ha detto Nel video precedente Che fece su di lui Ma Non ha citato Le comparse Che ha fatto in live Poi non so se Se l'ha detto Se l'ha detto Nel video precedente Ok Possiamo dire Che la timeline È completa Se no Come anche oggi Qui sotto in descrizione Trovate Tutto ciò che può servirvi Tra cui Pampling Sì non ci interessa Un cazzo Andiamo avanti Che meglio